Puoi spiegarmi cosa ci fai... cosa ci fai da Dada? Che cazzo di domanda è? Dici in generale nella mia vita? Eh Lo sapevo che avrebbe fatto questa cosa, risatto Perché mi... perché ogni volta devo riaggiornare tutto? Ma quale cazzo è il problema? Ci sono, ci sono ragazzi Scusa, è che mi ha appena scritto il mio primo ragazzo chiedendomi se è normale che io sono sul canale di Dada E poi ho detto, come è stato insieme? Non è possibile Ciao, posso dire il tuo nome? Forse ci sta guardando Ciao Matte, sì, stiamo insieme Ciao No, 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 che bannarlo, no, no Ci piace molto, Matte è molto simpatico Tanto, tanto bene per lui Troppo Cioè, finché Arrivo Scusa, cioè, sono... mi sono... cioè, sono incazzata Perché questo non mi scrive da otto anni No Vabbè, ma fammelo dopo Vediamo prima questo e poi lo facciamo Cioè, fa quello di fa No, no, stavo pensando che... Non mi scrive da otto anni Adesso, perché ha saputo che sta con te Mi sta scrivendo, ti vuole conoscere Non so, ti dà il numero No, 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 no No, no, no Non so, ti ch health